ariete non affrontate la giornata con l'atteggiamento sbagliato per quanto siate annoiati dalla routine fate del vostro meglio per rispettare ogni impegno toro siate pronti ad improvvisare oggi perché nulla andrà secondo i vostri piani gemelli sarete pieni di energie e pronti a lanciarvi in qualche nuova avventura oggi le persone intorno a voi vi affideranno volentieri il comando cancro soltanto vostra sarà la colpa o il merito di quello che succederà oggi prima ne prenderete atto meglio sarà leone il timore di essere ascoltati da orecchie inopportune vi porterà a nascondere una quantità di cose oggi persino alle persone di cui vi fidate ciecamente non esagerate vergine più tenterete di fare i misteriosi oggi più gli altri scopriranno quelle verità che tentate di nascondere vi conviene essere sinceri bilancia sarete combattuti tra il desiderio di sperimentare e il vostro bisogno di sicurezza cercate di trovare il giusto equilibrio tra le cose scorpione non fatevi comandare dai vostri istinti primari oggi un po di autocontrollo vi impedirà di mettere in pericolo voi stessi e gli altri sagittario non illudetevi di poter realizzare i vostri obiettivi con il minimo sforzo impegnatevi al massimo e siate estremamente accurati capricorno non statevene con le mani in mano ad osservare il mondo che si muove intorno a voi prendete parte fatevi coinvolgere acquario cercate di scavare un po più a fondo in voi stessi per trovare le radici di un problema personale che sta diventando molto penalizzante per voi e perché vive al vostro fianco pesci un'adeguata preparazione è la chiave del successo oggi più sarete preparati meglio affronterete gli imprevisti della giornata Grazie a tutti Grazie a tutti